Sono in tutto 15 le persone rimaste intossicate dopo aver ingerito funghi, 6 sono retini, 8 senesi e un grossetano e quanto è accaduto nello scorso fine settimana in tutta la ASL Toscana Sud-Est, che ricorda a tutti come il servizio micologico per riconoscere appunto i funghi eventualmente tossici sia sempre attivo e a disposizione dei cittadini. Rimanendo in tema di funghi, sono sempre più frequenti anche gli incidenti che si verificano nei boschi dell'aretino soprattutto nel fine settimana. L'ultimo in ordine di tempo, un ottantenne caduto in una scarpata, ferito ad una gamba, dovuto trascorrere la notte in mezzo al bosco, lo hanno salvato i suoi cani che lo hanno protetto da eventuali attacchi di animali selvatici e scongiurato l'ipotermia. Per questo il soccorso alpino ricorda che prima di avventurarsi è sempre necessario avere ben presenti le proprie capacità. Quando uno va a fare un'escursione non è tutto facile quello che dicono i social per arrivare in un posto, bisogna capire anche la propria prestazione se può arrivare lì. È uguale anche per i funghi perché la gente entra e i boschi sono ripidi, ti devi risalirli e a volte la fanno, ti senti in malore, ti senti lì che non ce la fai più, tanti affaticati vengono recuperati anche da noi. E questo è importante, capire quello dove si può arrivare. Fondamentale anche conoscere bene le previsioni meteo e poi c'è Georesc, una app che consente di essere tracciati. Posizione e poi chiaramente c'è il tracciami e questo è il puntino dove cliccando parte. Chiaramente ci vogliono i dati, però il tracciami ti può indicare i vari tratti dove c'è il segnale. E questo vanno tutti in una centrale H24, una in Sassari e una in Irpinia nostra che sono sempre attive e loro registrano continuamente queste tracce, per cui è un aiuto molto importante. Chiaramente se non c'è linea, non si sa dov'è, allora vieni a trovare la macchina, poi entrano in funzione i cinofili. Chiaramente l'importante è di avere informazioni, informazioni perché queste ti aiutano molto. E in caso di temporale stare negli spazi aperti. Chiaramente il fulmine non si sa dove può cascare, l'importante è non mettersi sotto le piante, allontanare gli oggetti di metallo chiaramente e prendere l'acqua, nel senso stare all'aperto, stare all'aperto perché è l'unica situazione più sicura. Gli animali? Gli animali chiaramente è difficile che vengano a dare noia, cioè si è successo di persone che la notte si sentano circondati da cinghiali, ma gli animali scappano, anche i lupi voglio dire. Io giro spesso, ma anche loro spesso, ma anche i lupi tendano a evitare l'uomo. Sono più difficili forse i cani, ecco i cani magari bisogna stare un po' più attenti.